È obbligatorio? Devi farlo? È assolutamente obbligatorio? Ma cosa e perché? Perché sono obbligato a fare delle mie altre cose? Perché tutti quelli che mi vogliono affiliare, tesserare, mi dicono che sono obbligato a farlo ma non mi spiega nessuno perché sono obbligato a farlo? La risposta è molto più semplice di quello che pensi. L'obbligatorietà c'è solo perché hai delle agevolazioni riservate al mondo sportivo. Delle agevolazioni fiscali del tipo la possibilità di non pagare il bollo sulla ricevuta. Siamo esenti dall'IVA nel mondo sportivo quindi fondamentalmente è un'agevolazione davvero molto importante. Nell'istituzionale la 398 nel fiscale che è un regime forfettario davvero bassissimo. La possibilità di non mettere il bollo sulla ricevuta, la possibilità di non pagare il bollo bancario. E questa è l'obbligatorietà ma l'obbligatorietà è per te, per aiutarti ad entrare in questo mondo e ad avere tantissime agevolazioni che ti permetteranno di affrontare la vita associativa o societaria sportiva in un modo semplice, veloce e molto economico. Agevolazioni che nel terzo settore purtroppo non esistono perché le APS e le ODV sono molto ma molto più care rispetto alle ASD e le SSD. Come sempre ti chiedo un like, di iscriverti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!